andiamo alle automachine prima perchè siamo trasgressivi ah non ha trotto gli script e non lo servo danaio e andiamo forse 7 un masso perchè c'è di un masso beh candice adesso puoi spostare la rozza ma un po' con il segretario di essere dovuto comparire di qua perché ci sono meglio andare per tutto ok si trova o si trova qui qui non avanzare non vuoi e non c'è un barlight con lì gratis o questo qua non è sul bancone vai comprare tutte no anzi e qual è la descrizione che non ho vista devo usare quando il gioco va in tilt mi dispiace per l'inconveniente no aspetta perché porco ma quando il gioco va in tilt come facciamo usarle oh il signor psiche vieni qui dimmi che c'è ancora vaffanculo si andiamo a prendere la sonda anale sì ma adesso è minimo a posto del team rocket ci sono tutte le medium no che palle oh che strano no no che palle qua ha direttamente sostituito il team rocket con le tipe e facciamo poste si con le medium puoi cercare su internet a che piano si trovi l'apri porta per favore no niente l'ho trovato bravo no scherzone ok apri porti si ecco grazie ecco mi ha fatto questo piacere vada ok ok l'ho trovato mi sa aspetta vabbè intanto io cerco si no ok ma no l'ho trovato me lo ricordo eccolo qui come fanno a uccidere la gente preferivo fuck bull da marrone merda almeno quello di ogni tanto no boom boom baby boom baby ok adesso time to usare carmelle rara lì fino al 50 ok potresti aprire advanced map ok allora devi andare al decimo piano cioè insomma devi anzi no la apro io facciamo una cosa buona e giusta ma sai che me ci hai messo l'header almeno no apro una normale rompe di rossofuoco perchè devo trovare il teletrasporto giusto allora scopri che magari spica cosa che ha cambiato no no non sarebbe sta stronza come cosa si il fa ma questa qua è la tua rom si che bello sensore ok questo che porta qui che porta qui questo qua il piano numero non si sa 1 2 3 3 terzo piano ok allora bingo ok ora qui c'è gay ah cosa ci fai qui alp bosco bac best frase eu sto fermando i piani di hoc da cosa non posso permettertelo se dalla parte del medio adesso non sono con nessuno i best dialoghi eu e now parto del bordello madonna ma un attacco e lo stando e non vai colpire esatto best tattica eu ma col cazzo adesso finirai finiranno i pipì e morirai ooooh nooo wow chandelin l'ha messo a fuoco puo ma non ha le mani non ha le mani non può usare fuoco pugno mi dispiace ma la cosa perchè sta volando hai visto bene alp hai vinto di nuovo credo proprio che resisterò sempre che resisterò sempre il secondo cerca di riflettere occhi si sta volando per i suoi loschi piani menzogne ah e che chiesa e che chiesa l'hai più di cauda portal e il tizio lì cosa vuole no no non mi importa ciao alp sei di nuovo qui sono venuto a prendere un pokemon che mi ha impede diritto non riuscirai a fermarmi questa volta il super pokemon sta per nascere ormai e guarda che però sono qui io eh ah avrai così uso sempre pokemon di un trio eh vorrei dire che avrà il resto del trio ma probabilmente avrà o come quarto pokemon ah un quarto pokemon eh si o lui aveva tre più eh ah giusto anche no ma di solito più logico più o perché l'ugia lo collegherai con i francesi e tre lungo se lb e lb così a casa al senso logico vabbè ciao lancia fiamme ok neanche ho finito ho finito ho finito ho finito troppo bello per essere vero infatti lancia fiamme dai no no si e adesso ti pericare bambini ma cosa no 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 bataglia epica no e ora sveglia maneggiare il sito della serbia e il marco è la storia il giovane non importa puoi tenerti quel pokémon non mi serve più ho tutte le informazioni necessarie per dare vita al nuovo super pokémon il plot twist o grazie mille mi dispiaspiace mi dispiaspiace ma non posso darti qualcosa di valore questo semplice dono signore guardi che le posso comprare questo va non ha capito che le posso comprare per 6 6 6 io voglio dire la prossima ok ciao sì ciao bello la prossima è un pokémon molto bello minghi e i commenti della gente verso il pokémon è un